L'acqua è la più grande ricchezza del pianeta, necessaria alla nostra vita, alla vita delle città, delle campagne e delle nostre fabbriche. È fonte di energia, di salute e di bellezza. Un alleato prezioso se ne conosci i ritmi e impari a rispettarne la natura. Con noi puoi farlo diventando un professionista esperto in gestione delle acque e risanamento ambientale. Dal 16 gennaio all'Istituto Tecnico Aleotti di Ferrara sono aperte le iscrizioni al primo anno del nuovo indirizzo di formazione professionale.